Non so se lo sapete ma io dico sempre che si accettano suggerimenti Infatti una persona che ha preso il mio bot Adapto ha avuto un'idea Mi ha proposto questa idea per cui l'abbiamo vista insieme Prima facendo un po' di backtest manuale sul TradingView I conti tornavano sostanzialmente Per cui su richiesta espressa di una persona che già stava utilizzando Adapto Ho deciso di andare ad implementare una nuova funzione Che può essere poi utilizzata anche in maniera incrociata con altre È super nuova per cui io l'ho utilizzata solo nello specifico In coppia con le bande di Bollinger Però poi non vi nego che farò altri test con altre funzioni Per cui se avete Adapto o comunque siete interessati a prenderlo Prendete appunti perché questo discorso qui vi può interessare Di che si tratta? Allora tra i vari indicatori oltre al filtro della tripla IMA Che è questo qui diciamo che c'era già prima Ho aggiunto un singolo filtro EMA E chiaramente per poterlo utilizzare dovete mettere questa funzione su Vero Qui vi andate a scegliere il periodo di riferimento E qui vi andate a scegliere il time frame di riferimento Vi faccio uno spoiler Se poi andate ad ottimizzare questo filtro EMA Io come periodo di solito metto 25 Assalti di 25 fino a 200 Ma vabbè Oltre a questo praticamente l'altra funzione è stata aggiunta sulle bande di Bollinger Perché vedete ci sta il filtro EMA che è integrato Per cui se volete far funzionare entrambe le cose Anche diciamo con la versione gratuita per provarlo Dovete mettere qua su True E il filtro EMA su True Gli altri indicatori li mettete su False Vedete quindi non funzionano Cioè funzionano solo questi due Noi gli stiamo dicendo Al bot vammi a lavorare solo con le bande di Bollinger e la media mobile Di fondo però come funziona Andiamo a vedere un attimo quella che è la strategia a grandi linee Mentre prima con le bande di Bollinger si andava ad aprire sulle uscite a rialzo o a ribasso In modalità reversal o trend following In questo caso utilizziamo come filtro anche una media mobile Ma come la utilizziamo? Non soltanto rispetto al prezzo Perché noi potremmo dire per esempio Se siamo sopra la media mobile E il prezzo buca Tu vammi a comprare Quindi noi normalmente diciamo così Uno fa un ragionamento del genere Si utilizza la media come filtro E dice vai a comprare Non è la situazione in cui appunto il prezzo va a bucare Ok eccoci qua E per dire in questo caso qui Siamo sopra la media E andiamo a profit Però sul suggerimento di questo trader A tutti gli effetti Ho avuto un'idea che secondo me è buona Ecco È molto interessante Io non l'avevo pensata Per cui Visto che ne penso una più del diavolo Questa non l'avevamo calcolata Ho fatto delle prove Lui mi ha aiutato E è venuto fuori un qualcosa di molto interessante Qual è il discorso? Che noi non andiamo a vedere solo la media rispetto al prezzo Ma andiamo a vedere la media rispetto alle bande Cioè nel momento in cui le bande sono più in alto rispetto alla media Noi andiamo a comprare Se il prezzo mi va ad uscire dalle bande E poi mi va a rientrare E appunto Siamo sopra questa qui Sopra la media Quindi c'è una doppia regola che ci fa da filtro E in questo caso Diciamo così Andiamo a ottenere meno falsi segnali Perché non solo è il prezzo sopra la media Ma lo sono anche le bande Quindi l'andamento medio che viene misurato poi dalle bande E quindi è un fattore in più Che abbiamo a nostro vantaggio Al contrario Andiamo a prendere una situazione Al contrario Andiamo a vendere Se il prezzo scende Scusate Se il prezzo rompe Sopra le bande In questo caso qui Andiamo a vendere E siamo sotto la media Ok Poi Come viene gestito il trade Viene gestito normalmente Con La normale griglia di adatto Senza Diciamo poi Altri Altri cambiamenti Perché il sistema a griglia Che sicuramente avrete già visto su altri video Se non l'avete visto andate parlando ad approfondire Va a gestire i trade In maniera Comunque Efficace E Vi faccio vedere Praticamente Noi poi possiamo andare anche a giocare con i segnali stessi E a Invertirli Attraverso la modalità trend following Quindi Andiamo a fare un esempio concreto Allora Vediamo un attimo che succede Abbiate pazienza Ma c'ho 18 Cose sempre aperte E Il pc va a un briciolo A rilento Ok Qui parte E già partiamo con un Con un sell Vabbè che va a take profit Ok E continuiamo con i sell Perché? Perché il prezzo Vedete è uscito fuori dalle bande E siamo anche Cioè le bande sono sotto la media Il prezzo esce fuori dalle bande di sopra Andiamo più veloce Vediamo un po' Anche qui un altro sell Perché in questa situazione qui Chiaramente stando sotto Vedete la media rientra dentro E noi non andiamo Adesso Ecco il caso opposto La media è fuori Le bande sono entrambe sopra Qua il prezzo esce E lui mi va ad aprire in buy Ci sono tante micro operazioni di scalping Che comunque sono ragionate E sono fatte Diciamo Gestite in maniera super efficace E super veloce Guardate Guardate invece cosa succede Se io vado ad abilitare La modalità trend following Mi si invertono I parametri Praticamente Di uscita Delle bande Ve lo traduco Adesso Con l'esempio Qui siamo Sul mio broker Di IC market Vediamo un po' Vedete in questo caso Il segnale di buy Non viene dato più Dalla media di sotto Scusate Dalla banda di sotto Ma dalla banda di sopra Quindi in questo caso qui Il prezzo era uscito fuori Ed eravamo Sotto Con la media Quindi sostanzialmente Si va ad invertire Quello che è Il nostro stesso segnale Per cui ecco Questo è un modo Per andare In entrambi i casi Io preferisco Diciamo quello di base Con il false qui A giocare Con le bande Di bollinger Se il discorso Vi piace Siete interessati Lo potete andare A testare Ho aperto Un altro account Demo Per farvi vedere Questa situazione Qua Perché sull'altro C'ho altri Indicatori miei Fatemi sapere Che ne pensate Anche nei commenti E Provate Adapto Insomma